Benvenuti della partita giocata già l'altro ieri che ha visto la sorprendentissima sconfitta del Liverpool a casa del H2K di Helsinki 1-0 per i campioni di Finlandia e Maglia Blue che segnano con Asik Ismail a due minuti dalla fine del primo tempo Ismail nazionale un po' attempato di Finlandia dopo questa azione qua la difesa del Liverpool ha fatto dei buchi incredibili e vedete Ismail che segna il gol dell'1-0 risultato che comunque per Liverpool non dovrebbe essere difficile ribaltare nella seconda partita queste sono tutte le immagini di Coppa dei Campioni che abbiamo di questo turno